Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Giallo Sant'Angelo Invado ha trovato il cadaver di un ragazzo di 17 anni vicino a una chiesa Polemiche per l'ambulanza bloccata lungo la ciclabile a Gimarra L'assessore alla mobilità assicura che verranno presi i provvedimenti contro la sosta selvaggia di biciclette e motorini A Sant'Orso torna la diciannovesima edizione della Festa della Gruppa dal 23 al 26 luglio All'ex chiesa San Michele si inaugura una mostra con le opere vincitrici di Cartoon Sea il monastro delle vignettiste e di disegnatori Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia apriamo con la cronaca nella giornata di oggi a Sant'Angelo Invado è stato trovato il cadavere di un ragazzo del posto di 17 anni il servizio è curato da Marco Ferri è mistero sulla morte di un ragazzo di 17 anni Ismaele Lulli di Sant'Angelo Invado nel Pesarese il suo corpo è stato trovato riverso a pancia sotto ad una cinquantina di metri da una chiesetta che sovrasta una collina raggiungibile da una stradina a località San Martino in Selva Nera il ragazzo ieri sera non ha fatto rientro a casa dalla madre in paese e l'ultimo messaggio partito dal suo cellulare ad un parente è di ieri pomeriggio alle 16 poi di Ismaele nessuno ha saputo più nulla è seguita una notte di ricerche che però non hanno dato alcun esito almeno fino alle 13 di oggi quando un uomo che passava di lì ha notato qualcosa alcuni segni vicino ad una croce che lo hanno portato fin giù sotto la scarpata dove il corpo del giovane è stato trovato con le gambe all'insù già cadavere l'allarme è scattato immediatamente sul posto si sono precipitati i carabinieri di Urbino e quelli del comando provinciale di Pesaro guidati dal tenente colonnello sommese per gli inquirenti la pista più accreditata è quella dell'omicidio per questo domani mattina all'alba arriveranno da Roma anche i carabinieri del RIS l'area attorno alla chiesa in un raggio di centinaia di metri è inaccessibile a chiunque i militari fanno passare soltanto i pochi residenti che abitano qui vicino oggi pomeriggio sul posto si è recato anche il PM Irene Lilliu con il medico legale per ora bocche cucite su tutto impossibile sapere qualcosa di più sulle modalità di quello che si annuncia un mistero fitto e per ora inspiegabile che ha portato alla morte di un ragazzino di soli 17 anni ed ora colleghiamoci con Marco Ferri che si trova ancora sul posto per gli ultimi racquagli a te Marco sì grazie solo per dirvi che i carabinieri del comando provinciale di Pesovino che stanno indagando su questa misteriosa morte hanno praticamente confermato che il corpo del giovane Ismaele presentava lesioni lesioni tali scrivono da non poter escludere la responsabilità di terzi per la morte appunto del ragazzo dunque si indaga per omicidio ed è tutto bene grazie Marco se ci sono naturalmente degli aggiornamenti durante il corso del telegiornale ricontattaci pure ed ora torniamo ad occuparci dell'ambulanza rimasta bloccata sabato scorso lungo la ciclabile all'altezza di Gimarra a Fano sulla vicenda che ha alimentato non poche polemiche l'assessore alla mobilità e all'urbanistica Marchegiani assicura che verranno presi dei provvedimenti sentiamo quali si può rischiare di morire a causa di una via d'accesso ostruita dal parcheggio selvaggio di motorini e biciclette la risposta purtroppo è sì Iafano nella pista ciclabile all'altezza della spiaggia dei Fiori sabato scorso è accaduto di nuovo erano le 17.30 quando al 118 è arrivata una richiesta di aiuto per soccorrere una donna diabetica che si è sentita male in spiaggia il codice assegnato all'intervento era rosso di massima urgenza e quindi il tempo di intervento doveva essere rapidissimo insomma non c'era un istante da perdere l'ambulanza è partita dall'ospedale Santa Croce di Fano a sirene accese ma quando ha tentato di arrivare nel punto più vicino per poter prestare il primo intervento i sanitari si sono dovuti arrendere di fronte a una selva di biciclette e motorini parcheggiati all'aria infusa su ambo i lati dell'unica via d'accesso all'arenile ma intanto ad ogni minuto che passava la vita di quella persona una signora residente a Fano era sempre più a rischio senza immaginare anche il senso di rabbia e di impotenza dei sanitari del 118 così come quella dei familiari o delle persone che hanno richiesto aiuto per fortuna la donna si è ripresa in poco tempo ed ora sta bene resta però il problema che non è soltanto di chi parcheggia all'aria infusa il proprio mezzo di trasporto ignorando i disagi e il pericolo che tale azione può provocare ma è di tutti che potenzialmente potrebbero trovarsi nella stessa situazione di bisogno questa mattina ci siamo recati nel posto in cui i veicoli sabato scorso hanno struito il passaggio anche oggi la situazione come potete vedere è la stessa ci sono scooter e biciclette parcheggiate sia da un lato che dall'altro questo significa che se ci dovesse essere un'emergenza un'ambulanza farebbe difficoltà a passare dopo l'articolo pubblicato ieri sul nostro sito occhio alla notizia punto it si è accesa una polemica in merito alla vicenda c'è che attribuisce la responsabilità ai vigili urbani chi ha il comune e chi ha il buonsenso di cittadini e turisti in diversi poi segnalano l'assenza di aree di sossa sul lungomare dedicate ai mezzi a due ruote ma guardate questo parcheggio adiacente al punto in cui l'ambulanza è rimasta bloccata il cartello indica la sossa di bici e scooter ma in realtà a parcheggiarci sono sempre le autovetture questa mattina inoltre abbiamo notato che due cartelli posto lungo la ciclabile sono spariti fino a ieri in questo palo così come nell'altro che è a 10 metri di distanza c'era un segnale un cartello con la possibilità di parcheggiare biciclette in questa strada oggi non c'è più queste cose insomma sono rocchi di tutti l'emergenza estiva deve essere lasciata soprattutto alle forze dell'ordine e quelle di sicurezza c'è un cartello c'è un cartello nessuno anzi sono stati tolti addirittura l'altra volta c'erano l'altra volta c'erano e sono stati anche tolti non lo so i fanesi vuol dire che a qualche fanese piace questa situazione di certo è auspicabile che vengano installati dei segnali di divieto su tutto il muro di cinta della ferrovia in modo da segnalare in maniera chiara che non si possono parcheggiare le biciclette e i motorini sulla ciclabile e garantire così ai mezzi di soccorso di transitare senza dover perdere i minuti preziosi per salvare la vita altrui ad assicurare che verranno presi i provvedimenti il vice sindaco nonché assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani dunque allora lì la situazione è la seguente dove si è verificato questo intraccio per la Croce Rossa esiste un divieto di transito c'è ovviamente il divieto per qualsiasi mezzo di parcheggiare su una pista ciclabile se questo non fosse chiaro come mi è sembrato adesso vedremo di mettere dei cartelli ancora più espliciti però si sappia che in una zona dove c'è il divieto di transito ammesso che sia consentito di portare a mano il ciclomotore o la bicicletta cosa che io reputo dubbia non si può assolutamente poi parcheggiarlo su una pista ciclabile dove è fatto assoluto divieto di mettere in sosta dei veicoli quindi questo intanto per educazione civica e conoscenza del codice della strada in chi guida soprattutto quei mezzi dopodiché adesso faremo quello che serve per rendere più esplicito ancora questo divieto in essere perché la cosa non si deve ripetere questo significa che interverranno i vigili urbani? beh interverranno sì ma in genere loro vanno a vedere poi c'è il momento in cui non c'è il controllo e si addensano lì i mezzi capitano inconvenienti che non devono capitare perché su una pista di cabina non si deve parcheggiare io non vedo mai un vigile mio figlio è handicappato trovo sempre il parcheggio occupato da gente quindi ci sono diversi problemi io non ho visto fino adesso due mesi quasi non ho visto mai un vigile girato qua troppi parcheggi abusivi esatto non si passa neanche di biciclette molti biciclette scusa non si capisce inoltre sempre su questo aspetto ci hanno segnalato che domenica l'ambulanza ha avuto problemi per passare in via Moletto all'Arzilla sotto il ponte della forovia sempre per una sosta selvaggia di veicoli a due ruote nello scorso fine settimana la capitanea di porto di Pesaro ha elevato 16 consanzioni amministrative quasi tutte accertate in prossimità della zona di Fiorenzola di Focara a causa della mancanza del permesso di accesso e per la navigazione sotto costa con l'impiego della propulsione meccanica seppure vietata per ragioni di sicurezza per la balneazione ad ogni soggetto che ha violato l'ordinanza è stata combinata una sanzione amministrativa di 172 euro è stato sanzionato inoltre anche il conduttore di un acquascooter che si trovava all'interno dei 500 metri della linea di costa a Tavulia un camion di balle di paglia che stava viaggiando lungo la statale provinciale 39 che collega Tavulia con Gradara ha preso fuoco oggi pomeriggio rapido lo sviluppo delle fiamme sulla cui origine si stanno facendo accertamenti le cause probabilmente riconducibili al caldo di queste ore allertati subito i vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti sul posto con tre autobotti per spegnere le fiamme parliamo di istruzione la regione Marche ha assegnato alle province 300.000 euro per garantire l'assistenza didattica domiciliare agli studenti disabili sensoriali all'avvio del prossimo anno scolastico la delibera è stata approvata oggi e andrà all'esame del consiglio delle autonomie locali il finanziamento consentirà alle famiglie di provvedere alle spese sostenute senza interruzione dell'attività didattica che veniva garantita dalle risorse delle province e in occasione del forum Marche Russia organizzato dalla Camera di Commercio di Pesaro Urbino è emerso che l'embargo dei prodotti dell'agroalimentare e le sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia sono stati alle aziende marchigiane costate oltre 70 milioni di euro solo nei primi tre mesi dell'anno con un calo del fatturato pari al 42,3% cifra che si va a sommare agli oltre 123 milioni persi nello scorso tutto anno 2014 in particolare soffrono i fatturati dell'agroalimentare e dell'arredamento e fervono i preparativi per la festa della gruppa a Sant'Orso che si terrà dal 23 al 26 luglio vediamo organizzata per la prima volta 19 anni fa a Sant'Orso di Fano la festa della gruppa è riuscita a coinvolgere anno dopo anno non più soltanto il quartiere ma tutta la città nata da una semplice idea di cenare in compagnia con del cibo portato da casa racchiuso in una tovaglietta la manifestazione torna dal 23 al 26 luglio prossimi con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età a dare il via alla Kermes giovedì sera sarà una cena di beneficenza a favore della Caritas parrocchiale alla quale nel 2014 sono stati donati circa 800 euro l'iniziativa è stata riproposta anche quest'anno e ad un costo di 12,50 euro si potranno degustare tutte le specialità offerte dagli esercenti del centro commerciale dai bar alle pizzerie dalle gastronomie ai panifici alle gelaterie ma grazie alla collaborazione di circa 100 volontari oltre alla solidarietà non mancheranno intrattenimento per adulti e bambini spettacoli di danza musica dal vivo e momenti dedicati allo sport come la partita del cuore che si svolgerà sabato 25 i protagonisti saranno gli ex giocatori 1980 della squadra Sant'Orso che scenderanno in campo alle ore 18.30 all'impianto sportivo Filippo Montesi questa nuova location che è stata piaciutissima non abbiamo avuto abbiamo avuto solo tanti applausi per la scelta del centro commerciale quindi tutti i quattro giorni sono programmati al centro commerciale con tre tre piazze di divertimento su divise piazza dello sport dove appunto avverranno tutti gli avvenimenti sportivi e scuole di ballo che si esibiranno tutti i quattro le giornate poi nella piazza centrale la grande area balera e spettacoli con le più belle orchestre tra cui il sabato eccelle la Roberta Capelletti la Marina Damiani le belle époque la balaunda di Atos Donini e poi la piazza Concerti cioè la piazza quella davanti alla chiesa dove avremo con noi la Luca Vagnini Bende la Borghetti Bugaron Bende e poi la domenica per finire la Bende Shampoo si sta pensando al ripristino della mitica e tipica Pignatta ma tante altre sorprese la Pesca Rompipalle il parco giochi per i bambini lo stand della Piada ritorna del comitato della Gruppa mercatini mostre fotografie basta perché se no non finisco più la festa tradizionale della Gruppa a Sant'Orso vi aspetta con la Gruppa o senza Gruppa perché chi la Gruppa non avrà troverà tante specialità nelle nove taverne che sono altro che gli esercenti del centro commerciale che vi hanno preparato tante specialità a dei prezzi popolari quindi mi raccomando 23 24 25 26 luglio tutti a Sant'Orso con la Gruppa edizione 2015 il cantautore Enrico Ruggeri diventerà cittadino onorario del comune di Mondolfo domani sera alle ore 21 si riunirà il consiglio comunale e secondo punto dell'ordine del giorno riguarderà proprio il conferimento della cittadinanza onoraria a Ruggeri l'artista che ha promesso di recarsi a Marotta il prossimo 12 agosto ha infine un legame profondo con questo territorio dove si reca per le vacanze estive fin dal 1972 nell'ex chiesa di San Michele sabato 25 luglio verrà inaugurata la mostra con i lavori vincitori della settima edizione di Cartoon Sea il concorso per vignettisti e disegnatori vediamo conclusa la fase di selezione dei 160 lavori presentati da 70 artisti di tutta Italia ora segue il momento espositivo delle opere del premio nazionale di umorismo e satira Cartoon Sea il concorso per vignettisti e disegnatori ideato e sostenuto da Sea Group SRL con il patrocinio del comune di Fanoi della provincia di Pesero e Urubino ha proposto per la sua settima edizione il tema della terra un argomento incentrato sulla sostenibilità ambientale che come consuetudine ogni anno si alterna con quello della sicurezza sul lavoro a vincere il premio ad aggiudicarsi la cifra di 1000 euro è stato Lele Corvi con risorse all'artista aspetterà sia una mostra personale che il ruolo di nuovo presidente di giuria nella prossima edizione a secondo posto poi i due premi da 500 euro ciascuno aggiudicati dai disegnatori Andrea Pecchia e Giuliano Rossetti il premio speciale invece istituito lo scorso anno in memoria dell'artista Franco Rigone vincitore della prima edizione del concorso è stato vinto dal 26enne Leonardo Cannistrat con la sua opera Karma i lavori vincitori verranno esposti all'ex chiesa San Michele a Fanno in una mostra che verrà inaugurata a sabato 25 luglio alle ore 18 sarà arricchita inoltre da una selezione di ulteriori 40 opere dalla monografica dell'artista Fricca Filippo Ricca vincitore della scorsa edizione e presidente di giuria di Cartunsea 2015 sarà possibile visitarla fino a domenica 9 agosto dalle ore 18 alle ore 23 alcune vignette disegni presentati a Cartunsea verranno inoltre selezionati e inviati al Festival dell'Energia e del Design a Firenze dove rimarranno esposti dal 31 ottobre al 1 novembre prossimi sulle altre cose abbiamo confermato giù gli altri aspetti tutte le iniziative fatte negli anni passati abbiamo solo ridimensionato un po' la come dire il portare fuori in giro per la città con alcune iniziative collaterali come facemmo gli anni passati ma è una riflessione momentanea per cui cercheremo di capire meglio quali sono le iniziative che attirano più la gente e soprattutto quelle che sono più confacenti allo scopo che ci siamo dati cioè quello di aumentare la cultura della sicurezza e la cultura del rispetto dell'ambiente attraverso la satira se a gruppo grazie alla capacità intuitiva del patron dell'iniziativa Oscardo Severi in pochi anni è riuscita a raggiungere l'obiettivo prefissato aumentare la sensibilità e l'interesse verso i temi di cui la società tocca mano quotidianamente da oltre 25 anni in questi periodi di crisi ha detto l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin è difficile trovare privati o aziende che credono e investono su appuntamenti di carattere culturale perché affrontare temi come la sicurezza sul lavoro o i temi della salvaguardia ambientale è ovviamente una sfida una sfida perché comunque satira e umorismo richiedono l'attivarsi di una serie di interrogativi non da poco e soprattutto assumersi anche una consapevole diciamo così cittadinanza dentro un mondo che cambia e che richiede soprattutto sui temi dell'ambiente oggi un impegno a 360 gradi l'appuntamento di Carton Sea è arrivato la settima edizione da questo punto di vista è non solo diciamo una grande opportunità per i giovani artisti ma è anche un bel momento di riflessione per tutta la comunità fanese martedì 21 luglio alle ore 21 e 15 la Memo ospita Roberta Biaggiarelli con il suo spettacolo Sebrenica in occasione del ventesimo anniversario del genocidio 1995 2015 prima dello spettacolo alle 20 e 30 il pubblico verrà accolto con il rito del caffè bosniaco per partecipare è necessaria la prenotazione che si può fare chiamando durante l'orario di apertura della Memo al numero 0721 887 343 e ieri si è svolta una cena di beneficenza al Circo Lanziani di Sassoni una cena dedicata ai diversamenti abili circa 220 persone hanno partecipato all'iniziativa che ha permesso di donare 700 euro all'unità al Sifano l'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali e 400 euro alla GFH l'Associazione Genitori con Figli Disabili in rappresentanza del Comune di Fano era presente il Vice Sindaco Stefano Marchegiani e prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento con il Teatro Dialettale tutti i lunedì sera questa sera la quinta edizione della rassegna dialettale creato sotto le stelle all'Arena BCC di Tre Ponti questa sera andrà in scena la compagnia di Gallo uno spettacolo che si chiama Namastella BG bene grazie per essere stati in nostra compagnia era tutto per l'informazione di stasera arrivederci a domani grazie a tutti i nostri spettacoli